Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi mi trovate ancora in questa location esotica, infatti siamo ancora a Milano per tutti gli eventi collegati al lancio delle Adidas ZX avete visto lo spot che trovate sul mio Instagram, oggi quando esce il video saremo live sul canale degli Exceed proprio per passare una giornata all'insegna di FIFA insieme a voi quindi passateci a trovare, ma oggi vi porto un video che secondo me può darvi una grossa mano perché forse ho capito il motivo per il quale voi mi domandate sempre perché i miei giocatori non si girano come si girano i tuoi quando tu muovi la levetta analogica e forse ieri in streaming abbiamo trovato la soluzione a questo quesito è probabilmente una cosa che io avevo già trattato, che però era passata un po' in sordina durante il video delle impostazioni controller perché secondo me avete attivato tutti quanti una funzione che invece secondo me va assolutamente disattivata e si tratta del dribbling agile contestuale, vi faccio vedere tenendolo attivato esattamente quello che succede quindi vado a cambiare schermata e andiamo subito in game per farvi vedere quello di cui vi stavo parlando allora, grossa premessa, che cos'è il dribbling agile contestuale? ovvero questa impostazione che voi trovate esattamente qui nelle impostazioni dei comandi eccola qua, aspettate che ve la mostro dribbling agile contestuale, eccolo qua disattiva il dribbling agile contestuale per i dribbling eseguiti con la levetta sinistra nelle situazioni di uno contro uno praticamente ragazzi, sapete che quest'anno è stato introdotto il dribbling con l'R1, con l'R2 insomma in base alla configurazione dei tasti ossia questo qui, vedete? muovendo la levetta sinistra insieme all'R2 io vado a fare questi movimenti molto molto rapidi ok? una sorta di L1, di L1, R1 come si trovava su FIFA 17 tenendo attivata quella spunta, praticamente voi andate a eseguire questo dribbling in maniera automatica ogni qualvolta vi trovate nelle vicinanze di un giocatore ok? invece io, avendolo disattivato, che cosa succede? succede esattamente la seguente cosa vedete? io sono in aria, basta che muovo la levetta analogica sinistra rigirandola praticamente a 360 gradi posso tranquillamente cambiare direzione vedete? qui magari Renato Sanchez è poco agile però ritorniamo magari su Nemar o su Mbappé guardate qua, ecco qua, io con questi movimenti qua raga, basta che premo la levetta sinistra vedete? mi giro, mi rigiro faccio tutti questi movimenti per cercare di mandare a vuoto l'avversario ma che non sono fatti in maniera diversa che con la levetta vorrei farvi vedere il pad, però purtroppo sono su Xbox non ho i mezzi soliti per poter fare la classica cosa col pad della play però vedete insomma come il giocatore si gira e si rigira su se stesso in maniera molto frenetica è anche molto molto efficace pensate magari a ricevere palla in aria boom, rapido movimento ancora per girarvi così per saltare gli avversari semplicemente con la levetta ok? cosa succede invece nel momento stesso in cui noi andiamo ad attivare quella dannata spunta del dribbling agile contestuale è una cosa per me molto limitante assolutamente da evitare cosa succede infatti? ecco qua, adesso io l'ho attivata quando voi vi trovate in prossimità di un giocatore quindi mettiamoci caso in questo caso siamo in aria vedete? io muovendo la levetta inizia il giocatore a fare il dribbling con l'R1 regà non fa il dribbling con l'analogico vedete? guardate io ora sono al ridosso del difensore e lui mi inizia a fare il dribbling contestuale vedete? ovvero schiaccia l'R1 in maniera automatica contestuale vuol dire che in base al contesto lui decide praticamente il gioco di attivarlo in maniera automatica vedete? ora qua me l'ha fatto di nuovo qua di nuovo ora che invece il giocatore è lontano me li fa i movimenti con la levetta analogica a sinistra vedete? però qua appena vede che il giocatore si avvicina in quella che è l'orbita di un difensore inizia a schiacciare praticamente R1 in automatico è per me una roba che va assolutamente tolta perché vi limita non vi dà la possibilità di poter fare tutti quei movimenti che sono fondamentali soprattutto dopo la patch con un gioco che si avvia sempre di più e in particolar modo a livello competitivo ad assomigliare a FIFA 20 guardate qua guardate qua qua già mi sta facendo il dribbling contestuale non mi sta facendo i movimenti con la levetta vedete? guardate io non sto premendo niente una mano eh non è che dici no stai schiacciando tu un R1 no guardate una mano non mi fa il movimento con la levetta mi fa il dribbling contestuale vedete? è come se io stessi schiacciando R1 in questo momento invece andandolo a disattivare perché poi non sia mai mi dimentico pure di lasciare di questa opzione aperta le madonne già le sento volare destra e sinistra eccolo qua dribbling agile contestuale rimetto no rivado nella medesima situazione e guardate qui tutti quei movimenti di prima che stavo facendo vabbè ovviamente questo è il Rashford quindi sicuramente non è mister agilità però ecco qua Neymar che non fa più così vedete? ma invece fa tutti questi altri tipi di movimenti che servono per poter fare 1800 cose diverse ok? quindi questo ragazzi era quello che volevo farvi vedere ci ho tenuto a portarlo in un video perché magari dicendolo in live rimane un po' più circoscritto eh alle persone che erano in live invece portandolo su YouTube può può divenire un qualcosa un po' più di eh virale tra virgolette quindi mi raccomando disattivate queste impostazioni ragazzi se non potete fare i micromovimenti e mi dite come li fai a fare ecco qua questa è la spiegazione e nulla per questo video è tutto raga mi ricordo vi raccomando di lasciare un like un commento fatemi sapere se l'avevate già disattivato se stavate smadonnando e non sapevate il perché non vi faceva gli stessi movimenti che fanno a tutti eh vi ricordo anche di iscrivervi al canale che stiamo crescendo bene mi fa strapiacere e nulla ragazzi ci troviamo ogni giorno in live trovate tutte le info in descrizione per la piattaforma Viola un saluto ciao